Il nuovo regolamento per l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate non si tocca. Il TAR Campania ha infatti rispinto il ricorso presentato dal Comune e dai 21 imprenditori locali che si sono dichiarati contrari alle norme approvate dal Ministero dell'Ambiente il 9 aprile del 2015 e condivise dal Parco del Cilento. Per sindaco e imprenditori le nuove discipline avrebbero riformato in peggio il regolamento del 2009 proibendo di fatto numerose attività che in precedenza erano non solo consentite ma anche espressamente formalmente autorizzate. Ad essere maggiormente contestate sono le regole per la navigazione. Per esempio, con la nuova direttiva, nella zona B dell'area marina protetta potranno accedervi solo una tante imbarcazioni con determinati requisiti di ecocompatibilità. C'è poi l'aspetto dei limiti imposti a determinate attività turistico-ricreative, il divieto di immersioni notturne, delle visite guidate subacquee in alcune zone e il divieto di ancoraggio alle navi da di porto. Altro punto nodale è quello dei cantieri navali. È stata prevista infatti un'area di transito per le unità navali dirette al solo cantiere di Punta dell'Inferno senza prevedere l'istituzione di ulteriori corridoi di accesso agli altri cantieri. Infine c'è il problema della pesca professionale, vietata in alcune zone dell'area protetta. Per i giudici salernitani però le nuove previsioni non appaiono in contrasto con le precedenti misure, anzi ne sarebbero una coerente e ragionevole integrazione, nella sostanza dunque nulla di illegittimo. Ecco perché gli stessi non hanno voluto sentir ragioni e nelle loro motivazioni hanno ribattuto punto per punto alle doianze dei ricorrenti. Il comune di Castellabate però non ci sta e adesso si ricorrerà al Consiglio di Stato. Grazie. 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 Grazie.